Namaste, sono Sara e ti propongo una pratica che ti aiuterà a ritornare in forma. In che modo? Non è che basta solo questi pochi minuti di pratica di yoga per ritornare nella forma ideale, ma spesso quello che ci succede quando, diciamo, ci lasciamo un po' andare, smettiamo di fare attività fisica, non è solo il nostro corpo, la nostra muscolatura che diventa meno tonica e magari aumentiamo di peso, ma è soprattutto la nostra mente che diventa più pigra. Lo yoga agisce soprattutto su questa parte, quindi andando a riaccendere il nostro fuoco. Praticando, facendo attività fisica, ci sentiamo tutti bene, aumentano le endorfine, quindi abbiamo questa sensazione piacevole. Questa sensazione piacevole ci spinge poi a tornare a muoverci, magari a praticare yoga, ma magari anche a fare nuovamente attività fisica e a prenderci meglio cura di noi stessi, magari con una dieta più appropriata. Quindi questa pratica è pensata per riaccendere, far scattare di nuovo la scintilla che ci porta a prenderci miglior cura di noi stessi. Iniziamo! Sedute sul tappetino, mettiamo i piedi in terra davanti a noi, aperti alla larghezza del nostro bacino, paralleli fra di loro. Qua stendiamo il busso e dobbiamo già direttamente attivare la nostra parte centrale del corpo, quella che viene chiamata il core. Stendiamo le braccia davanti a noi, ispirando le solleviamo oltre la testa, ispirando le riabbassiamo. Cerca di mantenere le ginocchia parallele, in questo modo dovrai attivare anche le gambe. Ispira ed espira e ora ispira ed espirando ti inclini leggermente indietro, ispira, sollevi e ispira. Ascolta il tuo respiro e cerca quando ispiri di far rientrare l'addome verso la colonna. Ispira, sali, ispira giù di nuovo, ispira ed espira. Un'ultima volta, ispira ed espira. Ispira, sali, questa volta stendi le gambe davanti a te, incrocia le dita delle mani, intreccele, e fai un movimento a onda. E intanto muovi anche le gambe, se vuoi, proprio agitandole. Bene. Andiamo a mettere le mani dietro di noi. I piedi ritornano come prima. Le dita delle mani possono essere puntate indietro, in fuori o in avanti. Dipende da come lo senti i tuoi polsi nella posizione. Io le punto indietro. Qui, ispirando, solleviamo il bacino, ispirando, scendiamo. Di nuovo, ispira, spingi davvero con i piedi in terra, attiva le gambe, e poi riscendi. Di nuovo, ispira, sali, ispira, scendi. Ora cambiamo leggermente. Ispirando, saliamo, ispirando, stendiamo le gambe senza appoggiare il bacino in terra. Di nuovo, ispira, ispira. Ancora, ispira, spingiti in alto, e ispira, allunga. Ancora due, ispira, e ispira. Di nuovo, ispira, ed ispira. Questa volta ci sediamo qui. Andiamo a stendere le braccia davanti a noi, stendere bene le gambe, allungare bene la schiena. Ci portiamo alla posizione di Dandasana, quindi solleviamo le braccia verso l'alto. Se vedi che la schiena è incurvata in questo modo, piega le braccia, lo chiamo a cactus, quindi con i gomiti piegati a 90 gradi. Ma cerca di attivare bene le gambe, attivare bene la schiena, per rimanere in questa posizione, che all'apparenza sembra facilissima, ma necessita davvero di tutta la nostra energia. Respiriamo qui. Ancora un respiro profondo. E poi lasciamo andare, agitiamo le gambe, muoviamo liberamente le spalle. Ora, ci portiamo con le ginocchia a terra. Andiamo a mettere i nostri avambracci a terra. Stendiamo le gambe indietro, ci portiamo nella tavola bassa. E qui muoviti lentamente avanti e indietro, con i piedi. Solo muovendo le punte dei piedi, attiva bene il tuo addome. Poi ci fermiamo, ginocchia in terra, faccio scivolare le ginocchia indietro, mi appoggio con il bacino. Collo del piede in terra, sono nella posizione della sfinge. I gomiti sotto alle spalle. Inspiro, spingo lo sterno in avanti. Spingo con gli avambracci in terra, apro bene il petto. E ispirando faccio scivolare le mani indietro, la fronte a terra, le mani sotto le spalle, i gomiti ben chiusi. Mi sollevo per cobra, ruoto le spalle indietro. Ispirando, poco per volta salgo. Poi spingo con le mani a terra, sollevo il bacino, punto i piedi, salgo a cane a faccia in giù. Quindi sollevo il bacino, metto i piedi in terra e cammino sul posto, piegando un ginocchio e poi l'altro. Poi mi fermo, i talloni possono essere anche sollevati a terra, non ti preoccupare. Muovi le mani verso i tuoi piedi. Inspiro, mani sotto le ginocchia, stendo gambe e schiena e espiro giù. Tutto su, salgo in piedi, mi srotolo in piedi. Tutto giù, direttamente mani a terra. Guardo davanti a te, ispirando. Muovi di nuovo le mani in avanti per trovare cane a faccia in giù. Inspirando, porti il peso sulle mani, ci portiamo nella tavola. Se vuoi appoggiare le ginocchia o senza supporto delle ginocchia, scendi a terra. Ruota le spalle indietro, saliamo per cobra e ci spingiamo di nuovo salendo a cane a faccia in giù. Nuovamente muoviamo le mani verso i nostri piedi. Inspiro, stendo gambe e schiena. E espiro, scendo giù, salgo srotolandomi tutto in piedi. Inspiro, direttamente tutto giù e espiro. Inspirando, guardo in avanti al tappetino, mi muovo di nuovo nella posizione del cane a faccia in giù con le mani in avanti. Poi di nuovo, tavola, scendo giù al tappeto. Ruoto le spalle indietro, salgo per il mio cobra nell'ispirazione e mi spingo di nuovo a cane a faccia in giù. Muovo le mani verso i piedi un'ultima volta. Inspiro, stendo le gambe e la schiena. Espiro, mani a terra, ginocchia morbide. Salgo tutto in piedi, inspirando. E direttamente tutto giù, espirando. Inspiro, guardo davanti a me, muovo le mani in avanti, cane a faccia in giù, e mi porto nella tavola. Nella tavola rimango, muovo i talloni verso destra e poi li muovo a sinistra e ancora a destra e poi a sinistra. Torno al centro, scendo giù a terra. Ruoto le spalle indietro, ispirando salgo a cobra. Espirando mi siedo sui miei talloni, puntando le dita dei piedi. Allungo, allungo bene la schiena qui. Un respiro. E poi muovo le mani verso le ginocchia. Andiamo a sederci. Ci riportiamo al centro del nostro tappetino. Mettiamo le mani sotto l'incavo delle ginocchia e avviciniamo le ginocchia al petto, sollevando i piedi da terra. Troviamo l'equilibrio, come sempre, attivando la parte centrale, l'anello centrale del nostro corpo. Sollevo la tibia destra e la riabbasso. Sollevo la sinistra e la riabbasso. Le sollevo entrambe e riabbasso. Ancora una volta sollevo e scendo. Metto i piedi in terra, le mani dietro di me e agito dolcemente le gambe. Facciamo ora la posizione completa di Navasana. Prendiamo di nuovo le nostre gambe, afferrandole sotto le ginocchia. Sollevo le tibie. Posso rimanere qui, cercando di avvicinare il più possibile il petto alle gambe o di stendere le braccia. Respiro qui. Metto i piedi in terra, incrociando le gambe e mi fermo per un attimo con la schiena dritta. Respiro qui. Cerchiamo di portare l'attenzione al nostro addome che è appunto la sede del nostro fuoco, della nostra energia. Uniamo le mani al cuore e ci ringraziamo per esserci dedicati questi pochi minuti per riattivare la nostra energia. Cerca di fare delle piccole pillole di pratica ma che siano quotidiane per incominciare poco per volta a costruire la tua attività fisica che riuscirà a mantenerti attivo e energetico quindi in forma in forma non seguendo uno standard di bellezza che la società ci impone perché di quelli non ci interessa. siamo bellissimi come siamo l'importante è stare bene sentirci bene e attivi e liberarci della sensazione di pesantezza e di liturgia nella nostra mente e per questo lo yoga ti può davvero essere utile e spero che questa pratica lo sia stata e noi ci vediamo alla prossima. Mamastè Grazie a tutti